Grazie a tutti. Come volete perché veramente ci sono queste preghiere e poi la cosa interessante di Don Leonardo è che spiega proprio le preghiere, i santi, c'è tutta una storia dietro, anche a livello culturale può essere interessante seguirla Don Leonardo perché comunque io dico sempre, anche chi non crede, però la cultura fa sempre bene quel libro in più. Dunque Don Leonardo l'abbiamo chiamato perché la settimana scorsa, perché ci segue sempre, abbiamo mandato in onda un servizio di Franco Cairo che ci parlava di un signore che raccoglie bottiglie che arrivano dal mare con dentro i messaggi, queste cose affascinanti che abbiamo viste anche nei film. E in questi messaggi tanti erano particolari perché contenevano delle fatture, ma non quelle che vorremmo buttare via perché non le vogliamo pagare, tutto un altro genere di fatture. Allora abbiamo chiamato Don Leonardo per capire qualcosa in più. Intanto le bottiglie non si buttano nei corsi d'acqua, mi raccomando, né plastica né vetro, ci sono i contenitori, questo non si fa per l'ambiente. E poi sentiamo con Don Leonardo queste fatture buttate nei fiumi. Cos'è questa roba Don Leonardo? Partiamo da un dato autobiografico. La prima volta che la mia informazione su queste cose dipende da cultura personale e anche acquisita durante gli studi del sacerdozio perché non ho competenze dirette in pratica non essendo esorcista né niente del genere. Però studiando e anche avvicinandomi alla fede, questo argomento dei diavoli mi ha sempre affascinato. Quando ero giovane andava molto il grande esorcista padre Gabriele Amort, che poi tra l'altro come me è laureato in giudisfrutenza. L'abbiamo nominato stamattina due volte, quindi significa che dobbiamo pregare un po'. Una persona anche colta, quindi un'estruita e intelligente. E questo nei suoi libri comincia a parlare del maleficio, della fattura, del malocchio. Io mi ricordo che giocavo queste cose e dico ma... Però sarebbe comodo quando non ci piace una persona farla fuori. No, ma io sono stato il primo a dire, ma questa è pure una persona intelligente, stavamo già nel medioevo quasi nel 2000. E lui invece spiegava bene alcune cose che poi studiando e anche vivendo la vita del sacerdozio ho capito ex post. Nel senso che cosa sono queste cose? Il diavolo, dicevano i padri della Chiesa, è la scimmia di Dio. Quindi lui praticamente cerca di replicare in maniera uguale e contraria quello che il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto con la Chiesa. Ora, se io voglio fare un beneficio a lei o a uno spettatore, come sacerdote per esempio, cosa possa fare? Una preghiera. Prego per lui, ma posso anche per esempio benedirlo. D'accordo? Posso anche odio sacerdote fare un segno di croce sulla sua casa, la benedizione delle case, no? Che cosa fa questa cosa? Nel dettaglio gli effetti di una benedizione io non sono in grado di descrivere. Se la benedico e cosa le succede? Sicuramente le succederà un beneficio spirituale che poi sarà proporzionato nel bene a quanto il suo cuore è aperto ad accoglierlo. Cosa vanno quelli? Cosa uguale e contrarie. Quindi invocano non l'autorità di Dio, ma l'autorità del nemico di Dio, non per causare un beneficio, ma un maleficio. Che tipi di male? Fisici, psichici, morali, spirituali, addirittura nei casi più gravi, per questo le citate a Padre Amor, addirittura attraverso queste cose le possessioni. Stessa cosa che fanno per esempio, se uno si legge questi libri, fanno bere delle cose, mangiare delle cose, oppure i talismani, uno potrebbe pensare che sono stupidaggini, che sono superstizioni, no? Però anche nel campo della fede, purtroppo oggi noi abbiamo smanito tante cose, perché anche dal punto di vista della fede non si sa. Se si porta addosso un crocifisso, benedetto, si chiama tecnicamente questo, basta per dire, un sacramentale, cioè portare addosso un crocifisso produce un beneficio reale. La Madonna nel 1830, Rui de Bach, fece coniare lei in persona la famosa medaglia miracolosa, promettendo a chi l'avesse indossata con fede grandi grazie e benefici. La medaglia di San Benedetto è la stessa cosa. Un quadro benedetto, farsi il segno della croce con l'acqua santa. Perché ci facciamo il segno della croce con l'acqua santa? Non perché fa tanto per farlo. Perché il segno della croce con l'acqua santa produce un beneficio spirituale. Ora, il mondo del male, dal momento che imitano in negativo, ricopiano. E qual è il problema? Se fanno quelle cose a chi è amico di colui che è più grande del diavolo, generalmente le negatività sono poche o nulle, addirittura ritorno alla mettente. Ma se vanno a colpire qualcuno che è spoglio della difesa della grazia, quindi di colui che è più forte del demonio, è abbandonato a se stesso, chi di noi è in grado di resistere ad un assalto del male di questa gente? Capita la fragilità. Magari, Don Leonardo, ci sono persone magari di grande fede, però sono magari in difficoltà economica, familiare, una delusione. In quel caso si insinuano meglio certe dinamiche. Io non ho i dati aggiornati, ma io rimasi impressionato, perché a qualche anno fa, Lessi, in una fonte autorevole, che un italiano su tre ogni anno va dai maghi. Ora, bisogna, su queste cose, bisogna un po' discernere, perché nel campo cattolico ci stanno le apparizioni vere e quelle taroccate. Sì, ci sono tante persone che ne approfittano solo per fare soldi. Esatto, quindi ci sono alcuni che non sono pericolosi, se non per il portafoglio di chi ci va. Però altri sono pericolosi, perché chi è in grado... Come si fa a discernere? Allora, si fa a discernere nel senso che... Ci ci si va proprio? Eh, purtroppo, esatto. Gesù nel Vangelo ha detto che l'albero si riconosce dai frutti, quindi se... come dire, un'operazione fatta da un ciarlatano non produrrà effetti negativi, quindi non saranno neanche percepibili, ma un'operazione fatta da chi ci capisce, qui se si reggono questi libri, gente che non trova lavoro, malattie inspiegabili, depressioni, o cose di questo tipo, tutte queste cose un po' strane, che anche la scienza, la medicina, fa fatica poi a fare delle diagnosi, dicono gli esperti che sono potenzialmente, o a volte realmente riconducibili, operazioni di questo genere. Come si fa? Come ci si difende? Ci si difende in preventivo. Come si recupera la salute e la serenità? Sempre Padre Amor ti diceva aumentano queste cose perché sta aumentando, ci sta allontanando dalla fede e aumenta la superstizione. Se uno è blindato, è protetto, cioè se uno c'ha i sacramenti, c'ha la preghiera, c'ha i nostri sacramentali, si accomodi pure il diavolo a combattere contro Gesù Cristo, vediamo chi vince, insomma. Tante cose che le nostre nonne sapevano, cioè un tempo, la nostra cultura... La medicina popolare, la magia popolare dell'Italia, ne è piena perché l'Italia è un po'... Ci sono tutte queste cose strane che non ho mai approfondito, dice che c'erano le bisnonne che ti facevano, ti levavano il malocchio. Con il malocchio con l'olio, l'acqua. Non ho mai approfondito queste cose, se sono vere oppure no. Però la difesa per una persona che crede a queste cose viene da colui che la vi. Certo, non bisogna trovarsi Santa Teresa Davila dice che farsi un segno della croce con fede, con l'acqua santa, lei era devotissima dell'acqua santa, è una bomba atomica. Si sa, tutti sanno che l'acqua santa, per esempio, viene usata anche durante gli esorcismi in senso stretto, che il diavolo ha paura, no? Però queste cose... Bisogna però capire... Sono un pochino trascurate perché la stragrande maggioranza delle persone non ne comprende neanche l'importanza. C'è che c'è da fare a me? E se... E prego un po' il nostro Signore dentro casa ha dato bene lo stesso, no? Cioè, la mentalità dominante adesso che c'è in giro, no? Non è lo stesso perché ricevere la comunione... Cioè, io prendo la comunione. Poi provo un po' a farmi qualche cosa. Se la prendo bene, in grazia, vediamo un po' se con Gesù Cristo dentro c'è qualcuno che gli può fare qualcosa, insomma, anche tra quelli che lo odiano, no? Senta, Don Leonardo, invece una domanda che mi hanno fatto alcune telespettatrici. si sono preoccupate in qualche modo del Signore che ha trovato queste bottiglie ma pensiamo magari un bambino che gioca va sul letto di un canale un fiume trova queste cose venire, entrare in contatto con questi oggetti che sono stati gettati poi è pericoloso? Allora, io sinceramente non lo so non lo so non lo confesso che non saprei proprio dare sicuramente bene non fa poi che faccia male quanto faccia male io questo non sono in grado di dirlo perché poi questi fanno un sacco di cose non lo so ecco però sicuramente bene non fa e anche qui ai bambini io consiglio sempre battezzateli presto anche a un bambinello mettete dosso una bella medaglietta che si regala nei battesimi della medaglia miracolosa cioè essere protetti male non fa male non fa no abbiamo visto le super protezioni che si fanno in ansia e pericoli di malattie o di cose di questo genere io penso che sia opportuno proteggersi anche un po' come andare in battaglia come ci siamo protetti dal covid ci sono tante cose invisibili che noi non vediamo però che necessitano sono in tanti messi le mascherine no? e ha voglia mascherine spirituali che ci stanno da indossare per proteggere l'anima ce ne stanno tanto sono più importanti secondo me perché quelle spirituali proteggono anche il corpo ma quelle del corpo non proteggono lo spirito c'è questa c'è questa discrasia un po' abbiamo anche capito dai dati di cronaca che dopo il lockdown sono aumentati anche come lei ha detto in apertura queste richieste di aiuto anche nel mondo dell'occulto perché ci sono tanti problemi spesso ci si sente disperati senza soluzione quando arriva quella disperazione magari ci si prego ma non sento e allora ci sono tante persone che ne approfittano e si entra in quella spirale in quel vortice che poi una tela di ragno difficilmente se ne esce purtroppo si purtroppo si ho detto credo verso nell'altra nell'altro intervento fatto quest'anno che purtroppo la differenza che c'è tra il nostro grande meraviglioso Dio e il suo nemico è questa che Dio ti si comunica certamente nel mistero ma con un interlocutore libero ci lascia liberi amorevole il diavolo no il diavolo è un ingannatore il diavolo va avanti a trappole a sotterfuggi a stare nascosto a giocare a carte coperte per carpirti perché quello che lui interessa è una cosa brutta però dobbiamo prendere coscienza che esistono questi esseri è fare stare male cioè lui gode nel dare dolore agli uomini perché perché attraverso la sofferenza degli uomini si è dato un dolore in un certo senso tra virgolette a Dio perché la sua guerra è contro Dio non è contro di noi siccome Dio ci vuole molto bene è come se io odio una persona perdonatemi insomma che se gli voglio fare del male più ancora che colpire a lui gli colpisco le cose care no? così sarà male la sua cosa è questa e su questo non conosce non conosce limiti non conosce vergogna non conosce ritegno quindi è bene proteggersi un po' la chiesa esiste per questo tutta la struttura della chiesa esiste per questo ci ha dato delle indicazioni chiare per un fai da te però quando si capisce e bisogna qual è il campanello d'allarme che ci deve far capire che bisogna chiedere aiuto magari ad un padre esorcista allora le non ci sono delle cose proprio perché tutte quante queste cose di per sé sono sintomatologie comuni anche a stati di malessere che non hanno nulla a che fare con il soprannaturale ce n'è una in particolare che è pericolosa l'avversione al sacro cioè quando una persona non soltanto come dire non gli va ma se entra in chiesa oppure sta in contatto comincia a sentire un po' di malessere si sente a disagio si sente male vuole uscire si sente nervosa o cose di questo genere tra quelli che conosco io questo è quello che quando c'è deve far pensare un un po' perché poi altre cose malesseri fisici psichici possono dipendere di per sé anche da cause organiche oppure spiegabili tranquillamente con con la scienza un'altra spia è quando dinanzi a fenomenologie diciamo così ordinariamente sostenibili o curabili attraverso le scienze umane si interviene ma il problema non si risolve se si interviene il problema non si risolve questi sono i casi più difficili diceva il buon padre Amor qualche malattia particolare perché sembrano uguali a quelli normali per cui uno intraprende le vie ordinarie e prima di capire che dipendono da altre cose ce ne vuole è vero che gli esperti che lavorano su queste cose quelli veramente seri hanno un'equip generalmente dove c'è uno psichiatra a volte anche un medico per poter capire quando ci sono dei casi delicati dove finisce la natura e dove comincia il sopranaturale che non è facile ci vuole sempre molta prudenza e molto discernimento magari per le persone a casa sembra quasi medievale la richiesta di avere un sacerdote esorcista in ogni comunità ecclesiale in ogni comune però mancano un po' queste figure cioè bisogna andarle a cercare proprio qui no a Latina grazie a Dio il vescovo li ha nominati ce ne sono tre dicono che in qualche posto non ci siano però di per sé che io sappia lo so la nomina di un esorcista è un dovere del vescovo quindi si spera che siano situazioni come dire contingenti legate al fatto che magari qualcuno è morto il vescovo sta ancora avversando chi deve sostituire sì perché c'è questa crisi anche vediamo i grandi monasteri questi più antichi dove magari mancano le vocazioni eh certo questo è figlio di un momento difficile che sta avversando con l'umana società anche la chiesa che non è esente anche perché spesso tanti giovani si avvicinano ma magari è soltanto una crisi esistenziale e deve essere bravo il priore o il formatore o il vescovo a capire quando è una vera vocazione e quando invece è un momento di passaggio questo è complicato Don Leonardo è certo complicato anche dal fatto che purtroppo può accadere speriamo quasi mai però non è escluso che appunto siccome le vocazioni non sono tante però bisogna fare sempre un discernimento uno magari fa un discernimento un po' meno attento perché dice per uno che arriva non lo facciamo scappare però eh no so che voi siete sempre molto rigidi in questo siete attentissimi la mia buona santa mamma che lei doveva aver conosciuto diceva sempre meglio un bravo cristiano che un cattivo prete diceva sempre così diceva tu sei andato mi raccomando se ci vuoi diventare diventa però se devi diventare un cattivo prete tornate a casa grande mamma Rossana Don Leonardo in chiusura diamo qualche ecco Legge ha dato tanti consigli se qualcuno in questo momento a casa ci stesse guardando pensi questa mattina abbiamo avuto ospiti due ragazzi uno in particolare un autore uno scrittore ha scritto un libro molto interessante anche molto duro raccontando la sua esperienza di questo amore che lo stava per trascinare in una situazione pericolosissima con una setta anche qua magari non direttamente ma incontriamo delle persone che ci trascinano per gioco pensiamo ai ragazzi magari per passare una serata goliardica poi si entra in certe dinamiche e non si riesce più a uscire come si fa? che gli adolescenti spesso sono curiosi quello che ho detto prima io prego prego tanto perché se ci si poi se ci si ritrova qui dentro dopo diventa veramente complicato credo che molti di noi soprattutto i consacrati ma anche gli altri debbano ascoltare un pochino i pressanti inviti mariani di ormai un paio di secoli a pregare sempre molto perché quando si trova in questi guai se entra poi in certe dinamiche uscirne è veramente difficile se non arriva qualche gancio dall'alto perché il cervello parte viene come dire viene fagocitato dentro certe logiche e poi c'è anche la paura quindi la pressione la vergogna la vergogna di dover la chiusura perché in genere isolano queste persone esatto sono veramente sono veramente situazioni anche una mamma e un papà come fanno a capire ma una mamma e un papà se sono attenti capiscono come quando un figlio comincia ad avere comportamenti un pochino strani non parla sparisce capisce un pochino eh sì se il papà e la mamma io capisco subito quando un parrocchiano quando una persona che segue ha qualche problema seduta a stante perché se lo conosci basta soltanto che lo sguardo certi atteggiamenti è capire che c'è qualcosa che non va no gli interventi precoci sono sempre tempestivi sono sempre ideati prima che uno si trovi ecco ovunque c'è possibilità di rivolgersi alla parrocchia più vicina e c'è sicuramente un sacerdote pronto ovunque in tutta Italia è pieno di chiese l'Italia è bellissima invidiata in tutto il mondo per le chiese attenzione osserviamo 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 tanto perché magari vicino a noi c'è qualche persona in difficoltà e un amico sincero e vero può fare la differenza esatto che curare le buone amicizie aiuta tanto aiuta tanto non sentirsi soli grazie Don Leonardo abbiamo affrontato anche questo argomento spinoso questa mattina grazie infinito un buon lavoro un buon rientro nella sua parrocchia a Sermoneta andatela a trovare perché comunque è una messa anche bella intensa può fare piacere grazie Don Leonardo Maria Pompei noi ci fermiamo lì nella regia andiamo con Vassili Chizivelli nella sua cucina e torniamo tra pochissimo a parlare di teatro di grandi spettacoli con Cristiano D'Alterio